Dopo lo zainetto recuperato domenica, oggi sono state trovate anche le scarpe da ginnastica appartenenti a Mattia Luconi, il piccolo di otto anni di San Lorenzo in campo, disperso da venerdì nell'alluvione che ha colpito l'entroterra anconetano. Scarpe ritrovate nella zona attorno al Nevola ed è lì che continuano a insistere le ricerche fra il fiume e i terreni agricoli del territorio di Castelleone di Suasa. Al lavoro sono mozzatori dei Vigili del Fuoco e Carabinieri, uomini della Guardia di Finanza, uomini del Soccorso Alpino e Speleologico. Ore di devastante apprensione che accomunano anche l'altra dispersa, la 56N Brunella Q, per la quale invece le ricerche continuano sulle zone di Barbara e Ostravetere. Ricerche che corrono di pari passo alla necessità di voler fare chiarezza su eventuali responsabilità. Sia la Procura di Ancona che quella di Urbino hanno aperto due fascicoli di indagine per entrambe le province di competenza per fare chiarezza su ipotesi di omicidio colposo relative a presunte negligenze o sottovalutazioni del fenomeno. Responsabilità, aiuti e investimenti. Temi che ieri sera l'Aggiunta Acquaroli e il Coordinamento di Protezione Civile hanno approfondito in una conferenza stampa che ha stabilito uno stanziamento di 2 milioni di euro per i risarcimenti di concerto con la Camera di Commercio regionale. Nell'occasione Acquaroli ha voluto precisare la necessità di un piano nazionale straordinario per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, precisando quanto fatto finora dalle attuali competenze regionali. Dal 2018 al 2022 sono state realizzate opere di manutenzione con fondi regionali per circa 2 milioni e 600 mila euro, se non erro, sul fiume Misa e Nemola. Sono opere che per i tratti di competenza e per le competenze della regione sono state fatte con fondi regionali, sia dalla Giunta che mi ha preceduto, sia dalla nostra Giunta. Per precisione devo dire che di fondi regionali la Giunta che presiedo ha investito in due anni, quindi in due esercizi di bilancio, circa 6 milioni di euro. Negli anni precedenti, dopo che erano stati, nei cinque anni precedenti, dopo che erano passate le competenze dalla provincia della regione, altrettanti 6 milioni di euro. Quindi parliamo di 12 milioni di euro complessivi. Bisogna investire di più, bisogna cambiare le leggi, bisogna avere un approccio diverso rispetto a fenomeni come quelli che abbiamo vissuto l'altro giorno, sicuramente. Sicuramente gli investimenti che abbiamo messo in campo, che stiamo mettendo in campo, si parla di 170 milioni di euro sul reticolo dei fiumi marchigiani, che sicuramente in larga parte verranno utilizzati per migliorare e efficientare anche i problemi che si riscontrano sul Misa, sono opere fondamentali. Ma non basteranno perché purtroppo un'opera che si fa su un fiume è un'opera che ha una durata limitata, non è un'opera che ha una durata illimitata. È un processo complicato che sicuramente va gestito insieme al Governo centrale e con un potenziamento delle risorse e con una programmazione seria intorno a questi effetti climatici.